I dati in aumento dell'epidemia hanno indotto la ASL di Teramo a prevedere una nuova organizzazione della macchina sanitaria sul territorio. Nella giornata ieri si è infatti riunita l'unità di crisi e visto l'aumento dei pazienti positivi che hanno bisogno di terapia intensiva, è stata disposta la riapertura della rianimazione Covid dal terzo lotto del Mazzini, con sei posti letto. Contemporaneamente è stata disposta la riapertura anche della pneumologia Covid, con dodici posti letto subintensiva. Al pronto soccorso è stata chiusa l'osservazione breve ed è stata attivata un'ulteriore zona sospetti che accoglie tutti coloro che hanno sintomi che possono essere riconducibili al coronavirus. C'è un piggioramento sia dal punto di vista dei ricoveri ordinari che siamo passati a 23 e sia dal punto di vista delle rianimazioni dove abbiamo in totale sei ricoverati, cinque qui a Teramo e uno a Pescara. Adesso è cambiato che mentre prima si gestiva tutto con il reparto di malattie infettive, adesso a Steppa abbiamo trasformato in Covid anche la pneumologia dove possiamo arrivare fino a 31 posti letto e stiamo riaprendo la rianimazione entro oggi dove andremo a allocare tutte queste persone, riprendendoci anche i pazienti che stanno fuori perché è ovvio che una volta aperte li gestiamo noi qui a Teramo. La situazione è appunto quello che ci preoccupa perché ci sono anche tanti contagi sul territorio, oggi circa 60 stamattina, quindi si viene ad avere un trend di positivi oramai crescendo e questo non ci può dare anche che preoccupazioni perché è ovvio che più possibilità di ricoveri si possono avere. Teniamo conto che oltre allo speditermo abbiamo anche la RSA di Bellocchio dove vengono curati coloro che sono in fase di corrigione e l'unica cosa è che noi in questa fase non andremo a intaccare i presidi ospedalieri periferici assolutamente anche perché qui a Teramo noi adesso possiamo contare su complessivi, sono una settantina di posti letto tra terapia intensiva e subintensiva e malattie infettive, più posti letto che abbiamo nella pediatria covid, abbiamo anche una pediatria covid e più abbiamo una riserva di posti nel primo lotto, però io il primo lotto in questa fase non vogliamo sporcare neanche lo speditermo perché benché siamo riaprendo con sacrificio vogliamo cercare di portare avanti tutta l'attività ordinaria che bisogna fare.